Il reddito cooperativo di Castagneto Campucci, 4 o 6 o 6 di P. Allora, la sabana di riscarlo per Davide Apollonio, che sa che non passi attraverso il troppo all'Egueglia, una corsa che forse potrebbe stizzargli l'occhio proprio per le sue caratteristiche. Sì, senz'altro è una corsa dura, però ho lavorato molto in salita e credo di poter far bene l'Egueglia per arrivare in ottime posizioni alla Sanremo. È la prima volta che disputerai l'Egueglia, sì, è la prima volta. Quindi assoluta incondita e sarebbe vero, è davvero un debutto col botto. Sì, non vedo l'ora.